Aspetta, Simone, io e te dobbiamo parlare. Ti prego, so già quello che devi dirmi, lasciami respirare. Se devi respirare, io che devo fare? Che c'ho Laura che sto due settimane che mi si accolla. Simone è qua, Simone è là, poi piange. Cioè, ti giuro, io le voglio bene, Simone, però una certa, poi pure basta, no? Ho capito, che devo fare? Devo rimettermi con lei per fare felice te? Ho capito, però almeno dimmi la verità. Che c'è? Che è successo tra voi? Che c'è avuto? Una crisi mistica, te vuoi far frate? Mi guardi, per favore? C'è un'altra, vè? Eh sì, c'è un'altra. Sei contenta adesso? Non lo sapevo. Che schifo, Simone siete tutti uguali. Figurati se mollate una, se non c'avete già il rimpiazzo pronto che vi aspetta. Vai, chi è la stronza? Eh, non la conosci, è di un'altra scuola. Posso andare, hai finito il terzo grado? No, no, Simone, torni qua che ti sto parlando. Ma le siete tutti uguali.